Il film Gris per me ha rappresentato un sogno perché intanto l'ho visto adolescente, ero proprio all'inizio dell'adolescenza per cui ho sognato con quella bellissima storia d'amore ma ho sognato anche perché dentro quel film c'era tutto ciò che mi piaceva fare nella vita che poi è stato il mio futuro e la cosa più bella è poi quando nel 96, io sono riuscita a portare Gris al teatro a interpretare quel ruolo che avevo sognato per tanti anni davanti alla televisione che mi ha dato una soddisfazione abbiamo fatto 300, io solo ho fatto 365 repliche di Gris e insomma ancora oggi ne porto un ricordo indimenticabile E' bellissimo, questo festival io lo trovo veramente uno spaccato dell'Italia meraviglioso che si dovrebbe rendere ancora più visibile, ci dovrebbe essere proprio un canale televisivo dedicato sulle redi nazionali perché c'è grande fermento, c'è una bellissima attività, c'è bella gente e c'è una grande passione insomma io credo che se si parti da qui è sicuramente un bellissimo punto di partenza che ti prende amore, niente ti dà